Musica Bentornati con le quinsuite previsioni a cura di Metuan. La saccatura di origine artica stazionaria ormai da alcuni giorni sull'Europa centrale ha raggiunto pian piano il Mediterraneo e l'Italia appordando ancora residue precipitazioni e temperature molto fresche al di sotto della media del periodo. Nei prossimi giorni una nuova saccatura, questa volta di origine atlantica, si affaccerà sul Mediterraneo portando nuovamente in stabilità a partire dal nord Italia. Ma andiamo a vedere ora nel dettaglio il tempo sulle nostre due regioni. per mercoledì 12 ottobre. Al primo mattino molto fresco con residuo in stabilità sulla Basilicata Gargano, Puglia Meridionale e Salento. Miglioramento del tempo dal primo pomeriggio su tutti i settori. La sera cieli stellati ovunque. Le temperature rimarranno pressoché stazionare nei valori massimi, in ulteriore calo invece le minime. I venti, inizialmente moderati da maestrale, saranno in attenuazione dal pomeriggio sera. Mari, mosso o molto mosso l'Adriatico. Da poco mosso a mosso lo Ionio. Avrete notato la maglietta che indosso. Oggi vorremmo dedicare lo spazio della foto del giorno per un evento di beneficenza per il quale Meteo One e Teleappola sono media partner. Marta for Kids, come potrete leggere dalla maglietta, è un'associazione ONNUS fondata per un semplice scopo, donare un sorriso ai bambini ammalati di fibrosi cistica. Il tutto si ricollica all'incredibile storia di Christian Cappello. Christian, lo scorso 29 dicembre, ha perso Marta e con lei il bambino che portava in grembo. Con lei ha condiviso sogni e speranze e tra questa c'era il cantiere e il viaggio che avrebbe donato un sorriso e un aiuto ai bambini ammalati di fibrosi cistica, percorrendo le strade dell'Italia. Un sogno che è sembrato nofragare con la perdita prematura di Marta e il figlio Leonardo. Ma la vita riserva sorprise. Il 2 aprile scorso, giorno in cui, prevista la nascita del bambino, ha deciso di iniziare questo viaggio da solo, o meglio in tre, perché Marta e il piccolo Leonardo lo accompagnano e lo aiutano dal cielo. Il viaggio finora non è stato semplice, moltissime le difficoltà che ha dovuto affrontare, ma neanche la pioggia e il vento degli ultimi giorni l'hanno fermato, soprattutto grazie alla colorosa accoglienza che ogni città sul cammino gli ha riservato. Il 17 ottobre di questo anno, Cristian passerà da Altamura. Noi di Teleappole M2One, insieme all'associazione Wake Up, Amaram Malattierare dell'Altamurgia, Una stanza per un sorriso e l'Oasi del sorriso, abbiamo deciso di riservargli una colorosa accoglienza, al quale invitiamo tutti i cittadini di Altamura e delle città limitrofe. La vostra solidarietà può fare la differenza nella lotta a questa malattia. L'accoglienza si svolgerà in Piazza Duomo, dalle ore 18, con taglio del nastro e il saluto del sindaco di Altamura, Giacinto Forte, e proseguirà poi al Gal Terre di Murgia, ex monastero del soccorso a Porta Matira. Per una serata di beneficenza con rinfresco, musica, danza e testimonianze. Vi aspettiamo numerosi. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.